Siamo live con Carletto Ho sopravvissuto alle feste del primo d'anno che mi hanno detto che ha fatto delle cose vabbè, non ne parliamo perché l'argomento è diverso e il grande parte Stefano Saragoni abbiamo lavorato assieme anni al mondiale questo è un scrittore anche di un libro su Valentino lo vedo tra l'altro tra l'altro lì dietro lo tengo lì alle spalle che mi controlla esatto, esatto, esatto grande amico di Valentino poi magari faremo anche un'escursione sul motociclismo attuale ma questa serata è dedicata al nostro motociclismo vogliamo raccontarvi un po' delle storielle che abbiamo vissuto nel periodo d'oro ma poi non solamente nel motociclismo con Stefano abbiamo fatto anche la Dakara, anche con Carlo era un motociclismo diverso un po' più ruspante vi ho messo sul sito da vedere me lo sono dovuto ricopiare tutto a mano una prova della Yamaha 500 lo V81 di Lawson fatta il sabato di Lawson strano strano vedi fatta il sabato alla fine delle prove Lawson qualificato in pole position dopo mi ha dato la motocicletta perché Agostini Car Routers e Felice Agostini Eddie stesso e soprattutto Campana che era direttore di gara ci aveva lasciato la pista dopo era il gran problema di San Marino per fare questa prova quindi pensate un po' che differenza di organizzazione Paolo io sono stato il primo con l'Apria a far provare le moto a tutti i giornalisti se ti ricordi esatto esatto fine del mondiale si andava a giallo è vero e tutti i giornalisti tutti c'era anche una promessa che tu facevi a tutti i giornalisti che poi però non hai mai non hai rispettato no il suo promesso lo mantenuto se era quella di andare con delle belle bambine ti sei venuto anche a te quindi non hai rispettato non hai rispettato e Stefano lo sa soprattutto in Austria sì allora chi è che vuole rompere il ghiaccio perché io l'ho detto io parlo di prove di moto ma magari Carletto ma forse anche Stefano dai è l'ospite vero allora prima a proposito di prove ci stava raccontando di una cosa simile che aveva organizzato sul vecchio motosprint quello dove lavoravamo tutti di una prova della moto di Casoli della Supersport no? ma guarda lì era un dramma con Stefano perché lui il quello che provava le moto era Claudio Braglia se non sbaglio certo ma questo è il paleolitico sei già andato totalmente indietro parliamo di moto di moto stradali parliamo di moto da corsa quelle le provava Paolo Paolo che si portava dietro un Menega Gianni Menega esatto era un gentleman rider che ha avuto la fortuna di guidare tutte le moto più fighe del mondo perché era amico di scalera non per particolari meriti ma ha vinto anche un campionato italiano superbike ma non solo non solo ecco questa ve la racconta racconto perché è meravigliosa e poi coinvolge anche un po' Pernat anche se non era la sua idea allora io un giorno chiamai Claudio Domenicali c'era l'ultima gara di campionato italiano a Vallunga perché all'epoca partecipavano era un bel campionato italiano era un bel campionato italiano partecipavano anche i piloti del mondiale con un ingaggio da 30 milioni correva a Boll e non mi ricordo chi altro e io gli dissi dai Claudio dai mandami giù in Cajiva 500 che ci faccio corre Gianni Menegaz allora la risposta fu ma da via ciapp una cosa simile poi dopo non era Domenicali però ti sei rimbambito cioè volevi dire Claudio Castiglioni Scusa Claudio Castiglioni anche perché Domenicali parlava di Domenicali giustamente anche perché Domenicali non avrebbe mai detto via via ciao e alla fine la mandò no? la mandò però avevano fatto caricare sta moto sul sul camion della della Cajiva ma non avevano detto niente né a Milani né a Mascheroni per cui io mi presentai lì con con il buon Menegaz e tiraron giù la moto noi ci mettemmo lì Gianni che fate e io questa è la moto con cui deve correre il Menegaz e partì un altro mandato dal via chat ovviamente da da Mascheroni e da Varesotti veri Varesotti Varesotti veri e fui costretto a chiamare Claudio un'altra volta eh Claudio li mise tutti e due sull'attenti e il buon Gianni Menegaz corse l'ultima gara di Vallelunga con la Cajiva 500 facendo anche una discreta figura poi la moto grippò però insomma voglio dire pensate ragazzi è come se io oggi chiedessi appunto all'altro Claudio a Claudio Domenicali oh senti non è che tu c'hai un una una Ducati che ci faccio correre Giancarlo Tiritico alla prima gara che c'è open a Vallelunga era fantastico un periodo che siamo stati fortunatissimi di aver di aver visto era quando Beltramo provò la 125 di Gramini che ha vinto il mondiale era talmente grosso e lungo e tutto che non stava nella moto deve essere andato alla grande una bella grande ha fatto mezzo giro si è fermato Stefano io però io però vorrei che tu mi mostrassi una cosa che doresti avere lì in giro quella cosa che si mette in testa un po' bianca la neve da qualche parte la neve si la neve che cosa vuoi la mia collezione è il proprio rincoglionito il casco di Schwanz io ce l'ho però devo portarti devo portarti in un'altra camera no no tu vai a prendere l'hai messo dentro aspetta che mi muovo guarda se lo fai muovere non si collega più Belin no no perché dovete dovete sapere guarda aspetta perché non è semplicissimo dovete sapere chissà se ci arrivo ecco è lassù guarda e ce n'è anche uno che è quello di Cadalora vabbè non ci arrivo perché sono in alto Paolo ma roba da pazzi vabbè comunque ragazzi questo è un casco di Reggiani questo con gli scarichi questo è il casco di Kevin Schwanz eh e poi allora il casco di Cadalora dove diavolo è ah c'è anche un casco del tuo amico Biaggi guarda addirittura vabbè questo vabbè ma quello mitico perché mi ricordo la consegna è quello di Schwanz perché erano in sala stampa e Stefano aveva deciso di abbandonare il moto mondiale come inviato per assumere il ruolo di direttore beh e dici niente beh un buon conti pagava a grande giornale dell'epoca e mi vidi arrivare in sala stampa Kevin Schwanz con il casco in mano e darlo ancora con i moscerini per darlo sei proprio la memoria di un tacchino farcito quello l'ha fatto Cadalora lo vedi quel casco lì sì quello che ti inquadro adesso lo vedi no ecco quello è il casco con i moscerini eh che non ho mai lavato eh ed è il casco dell'ultima vittoria di Cadalora e va bene però in Germania con la mitica Honda 500 bianca ecco quindi Stefano che sono stato io che con tutta gestendo aziende piloti non ho mai voluto un casco una tutta da nessuno ma io non l'ho mai chiesto a nessuno infatti ho quelli dei più grandi ho solo quello di Spanxi vabbè ma lì lì sappiamo dei cantanti te c'hai no no dei cantanti di Alex vedi come no ha fatto la MotoGP che cazzo Alex è un generoso ha fatto la MotoGP è andato anche sul podio mica scherzo adesso stavo scherzando ah ecco allora non si può regalare niente Carletto Carletto tu hai sicuramente un sacco di ricordi stiamo parlando della della Cagiva di di Claudio e Gianfranco no perché ci hai lavorato quindi beh sai il ricordo più bello il ricordo più bello ce n'è tanti ma il più strano il più forse non ho mai raccontato era quando a Franco Champ avevamo fatto il primo podio terzo posto di Mamola ti ricordi sul bagnato con le gomme e Pirelli bravo bravo e telefonai giù per dirgli che hanno fatto il terzo posto no e Gianfranco non rispondeva bu e cazzo sei poi ho scoperto ma così perché quando siamo arrivati all'aeroporto lui è arrivato con un'ambulanza su un lettino con la Flebo perché era in ospedale gli era venuto il mezzo coccolone e quando siamo arrivati mi trovai Gianfranco su questa barella diciamo con l'ambulanza per farci complimenti sotto l'aereo pensate alla malpensa lui era in ospedale non sapeva letteralmente un cazzo non c'erano i social e tutta quella roba lì capito e io non lo trovavo gli era venuto anche un coccolone di quelli pesanti e quando arrivo me lo trovo lì con la barella con la Flebo mentre scendiamo dall'aereo per farci complimenti c'era una roba da mattina fortuna che non avete vinto se no finiva ma no ma state rinviate ma lo stesso Gianfranco che quando eh il 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 trovavo claudio parlato con gianfranco sai digli una cosa del genere micchia non era manco facile gianfranco non dico ti mandava a fare in culo e mi ricordo no non ci credo non è vero di quella franco veri purtroppo è vero e cazzo rimettilo in piedi sulla moto mette di del gesso arrivare alla fine dove di gianfranco cosa vuoi che gli metto del gesso e lo faccia arrivare alla fine cioè per capire di che tipo di persone erano un po pazze però belle in quella in quell'occasione lui arrivò oriola arrivò ascoltato fino alla all'arrivo ma aveva praticamente come come successe a valentino a valentino a bugello c'è l'appendice stefano stefano e paolo perché se ti ricordi claudio ci invitò col suo aereo privato castiglioni andare a trovare il verbo di ora a parigi all'ospedale questo è un bel racconto e partimmo da varese ti ricordi era l'aereo che aveva con perfetti quello della blu si 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 andavamo io te c'era con ieri della sera come si chiama c'era giagallo falletti dei palletti della sera ci eravamo io te falletti nico cereghini e anche cevenini no e c'era uno dei corriere dello sport famoso si dell'epoca era vabbè era famosissimo bravo andiamo andiamo e andiamo ehm al abbiamo stappato abbiamo stappato un bottiglione grosso in ospedale da aspetta aspetta iberto era tanto professionista che ci ricevette nella cameretta con la maglia lucky strike ti ricordi prima cosa incredibile poi dopo claudio ci fece mangiare delle belle ostriche dei cori quel bistro e ne prese un cartone a testa però siccome era un puttaniere come noi ha detto ma dai ragazzi già che siamo qua andiamo a divertirci no e dove siamo andati non ne voleva sapere aspetta siamo andati siamo andati ma tu l'hai fatta troppo breve siamo andati al crazy horse crazy horse tavolo tavolino tutti là e claudio ha detto ragazzi adesso ci vediamo lo spettacolo poi dopo ci penso a tutto andiamo l'indomani a costata niente quell'intervista orioli eh esatto e cimolani dio d'una madonna ma io la moglie io la mamma disse ma no eh l'impegno era di tornare a bologna di tornare a bologna eh claudio eh cercò in tutti i modi tutti gli aerei aerei privati missili di spedirlo a bologna ma dato che aveva dato la sua parola e non ci riuscì niente tornammo tutti in aeroporto e todan nico voleva ammazzare scivolani in aereo e secondo te io no eh ecco io no ma scusate avete portato uno che fa il calcio ma non è finita non è finita non è finita perché lui ricordi non ce lo ricordo abbiamo lasciato scivolani e abbiamo poi ripreso il volo siamo andati a Varese e siamo andati eh e c'era quello della Ignis come si chiamava? Borghi esatto si sono messi a giocare eh a carte e eh Claudio Cassiglioni ha perso tre botte di carte con eh il padrone della Ignis tipo centocinquanta milioni e gli ha chiesto la la rivincita e lui gli ha detto questa testuale frase no ti lascio nel brucio a quel punto Claudio ha detto usciamo e andiamo a divertirci siamo stati tipo le quattro le cinque della mattina eh è uscito dalla 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 la villa da dove stavamo e a un certo punto ha cominciato a dire dove come si chiamava l'autista Piero Pietro non mi ricordo Piero Pietro l'aveva chiuso dentro casa questa è tanto per dire cioè non è che date una gran bella immagine di noi sembriamo dei ventecati però la gente che viveva vivevamo Stefano abbiamo anche ne ha fatto anche qualcosa di meglio dai ma sì ma ora stiamo cercando di fare cose allora Stefano dai qualcosa di meglio che abbiamo fatto nella golden era no noi non abbiamo fatto niente io non ho fatto niente però siamo stati cronisti di una a parte Carletto che ha fatto un sacco di roba cioè Carletto no ha fatto tutto che ha fatto dalla Z praticamente tutto noi abbiamo fatto i cronisti di questa golden era dove dove tutto era molto più ruspante quando mi hai invitato a questa serata tra amici ho pensato mi sono tornati in mente dei momenti no e te dici oggi io vado a un gran premio non ci vado mai però se ci vado dai c'è tutta una questa atmosfera del state lontano da qui non zona minata e invece allora avevamo un bel contatto diretto con i grandi protagonisti del momento e non solo nella preistoria cioè no 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 è vero fino ai tempi in cui c'è stata la 500 sicuramente cioè fino alla fine del secolo scorso avevamo queste queste questo privilegio e mi è tornato in mente quando arrivamo in Olanda da Reini che aveva dato una mina disumana la settimana prima a Germania ed era tutto ammacato infatti andò infatti si andò a casa prima del tempo che se lo sapeva poi restava senno di poi il mondiale lo vinse poi lui era il 92 e allora io avevo questo è delirio vero avevo un un barattolo di vetro con un sugo alla bolognese fatto per lui cioè l'avevamo fatto l'avevamo fatto a casa per Wayne espressamente infatti vado al suo motorhome lui mi apre almeno contento di sta roba qua poi c'era soldano che aveva il video della sua caduta in Germania allora tutto contento per il suo grazie grazie mille bello tutto Gigi infatti ti faccio vedere un video da una gramma insomma dove lui da una grammina e gli dice Gigi scusa è bello tutto ma non venire mai più con un video del genere non ti presenta mai più con sta roba vuoi portarmi la sfida in casa avevamo questo bel rapporto in cui entravamo in casa loro persino spencer che ho rincontrato qualche anno fa mi diceva sai che poi io ero un gran rompipalle però mi faceva piacere che venivate da me bussavate alla porta poi entravate dentro insomma facevano delle chiacchi ma sì perché la particolarità era che non si facevano queste one to one cioè tu finite le prove a parte che stavi sempre in giro nel nel box ma andavi al motorhome bussavi niente entravi e ti mettevi ti mettevi a chiacchierare io mi ricordo con tanti piloti era estremamente divertente ma era soprattutto molto molto interessante per chi fa il nostro lavoro perché non c'erano queste coperture mediatiche per cui il pilota aveva ma noi che facevamo le aziende non le facevamo nemmeno esatto ma io oggi mi sono riletto appunto l'intervista che ho fatto a proprio tanto per parlare ma era l'oson che mi fece provare la moto dopo la gara che vince non ho capito chi è di l'oson che invece provare la moto era l'oson eddie e gli domandai che cosa ne pensi di spencer perché non aveva corso l'ultima gara no e e l'oson mi rispose dicono che si sia rotto un pollice forse mentre se lo succhiava questa è stata la risposta e secondo me meraviglioso è meraviglioso capito perché i due non è che si amavano molto no è direi di no però il grande amico di paolo l'oson era amico solo di paolo poi cioè credo di sì allora adesso vi racconto io una fantastica cioè l'oson era veramente un rompicoglioni per me io non lo amavo affatto perché era uno che era capace di tu stavi parlando con lui e lui andava al motorhome e come arrivava al motorhome cioè apriva la porta e non finiva neanche la frase ti chiudeva fuori c'era le volte dipende da come girava poi c'era il giorno che era ospitale anche lui come gli altri però era un po lui sceglieva oculatamente gli amici diciamo era così adesso 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 ha scelto paolo come suo amico ma mi ricordo una fantastica scena brasile ultima gara dell'anno paolo beltramo parla per tre minuti con eddie l'oson che che simpaticamente cioè siamo lì tipo un momento proprio rilassantissimo e dopo aver detto per tutta la stagione o l'oson però è impossibile fare il lavoro lavorare con l'oson era difficile soprattutto se dovevi intervistarlo per la tv perché delle volte ti rimpallava e allora lui parlò per tre minuti con eddie è finita la chiacchiera di simpatico però e mando a zappare la terra per una stagione dopo tre minuti di battute ha detto simpatico io però vi voglio dire che ci sono stati mille episodi no divertenti uno per esempio divertentissimo eravamo in brasile allora c'è un caro collega dove è in circuito eravamo in circuito ma quale circuito abbiamo conto le parti di qua a rio a rio a rio e c'è un nostro collega che è stato per anni l'inviato dalla gazzetta dello sport e filippo falsaperla ciao filippo che ha una bellissima collezione di guanti di piloti del polso che è anche di batterie vabbè quello che lui gli piace sono la batteria la batteria però di guanti e ogni volta che un pilota vinceva il mondiale o comunque era lì per vincere il mondiale si andava lì e questuava gli si faceva dare il guanto e c'è una bella collezione poi lui è uno tutto leccato per l'idea comunque alla luce dei fatti ebbe una buona idea e buona buona idea e allora decise di chiedere sto guanto a a max viaggi che però per qualche motivo in quel periodo non ci andava d'accordo così no e quindi vabbè comunque glielo chiese e max a brutto muso gli disse no no non te lo do quindi il povero il povero filippo incassò pensando poi magari lo me lo dà un'altra occasione e mentre si girava il frattempo passava un tizio che stava là viaggi lo chiamò e gli regalò il guanto di fronte a filippo io ho tre anni che sono stato con lui l'unico regalo che mi ha fatto me l'ha fatto il capodanno dell'anno prima che è andato via che abbiamo fatto a genova una partita motociclisti contro cantanti che pioveva come dire mandare mi ha regalato una cravatta riciclata che gli avevamo regalato a lui se ne ha dimenticato anche il dietro dentro è meravigliosa ma è vera sì sì senti carletto ma quella volta che si è arrivata si è arrivato tu col col naso praticamente rotto quasi in circuito che cosa ti era successo il naso due volte una me la ricordo io la prima era in giappone esatto è quella che mi eravamo io e reggiani che avevano perso strade col furgone andavamo a suzuka e non mangiavamo da 12 ore perché c'eravamo persi non mi ricordo dove cazzo eravamo quando abbiamo visto lontananza un ristorante almeno sembrava un ristorante allora loris ha fermato il furgone io sono sceso ho fatto una corsa dalla fame che aveva solo che era una doppia porta e invece che prendere il vuoto ho preso la doppia porta di corsa mi sono spaccato il naso gli occhiali e perdeva sangue siccome non c'era nessuno gridato mi hanno sparato mi hanno sparato e non c'era nessuno con lo stronzo di loris è rimasta ridere un quarto d'ora sul furgone mentre io ero per terra col sangue che perdevo hai capito poi mi hanno curato la seconda volta che mi sono spaccato e li sono ancora più idiota era philippe island perché se vi ricordate in sala stampa era divisa in due da un vetro sulla destra era lunga la sala stampa e questi stronzi non ce l'ha messo né un adesivo né una pianta per capire io ho fatto una corsa per andare fino in fondo mi sono sentito un'altra volta sono spaccato un'altra volta cazzo gli occhiali ho cambiato e lì venisse tutta la sala stampa messa a ridere ma mi faceva male che ho spaccato il naso gli occhiali cazzo mi ha sparato perché c'era un sacco di gente tornando tornando ai piloti c'è stata un'altra storiella divertente eravamo a silverstone e il grande filip culone uno dei privati più veloci che c'erano in come no 100 fashion a rovinosa caduta e e praticamente non erano proprio palle fini nel praticamente in una rete e starete si ruppe perché era era arrugginita e gli si infilò lì proprio dove ogni uomo insomma nel batacchio diciamo no nel membro nel membro nel membro eh fu portato in clinica mobile e il buon Claudio Costa si mise i suoi guantini di lattice e procedete all'operazione di estrazione del del filo di ferro che si era proprio infilato tutto ovviamente il povero fil culon che è svizzero ma in quel caso urlava bestemmiava come un italiano eh normalmente era una persona molto 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 a modo insomma gli disse ragazzi ragazzo mi raccomando eh adesso qui per un certo periodo di tempo tu non devi fare niente perché gli dobbiamo gli dobbiamo eh dare il tempo di 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 cicatrizzare no? E due il gran premio successivo eh Filippo volle informarci che secondo lui era tutto a posto e che la ferita era rimarginata lui in quel periodo aveva una bella fidanzata bionda con il caschetto di capelli eh corto tipo Caterina Caselli tanto per ricordare i tempi e e all'epoca i piloti privati non avevano il motoro ma poi non ce l'aveva quasi nessuno tranne tranne i vari Robbers Sheen e compagnia e lui aveva una roulotte e per cui tenne ad informarci eh ma non solo ai colleghi piloti ma anche agli amici giornalisti eccetera che lui quella sera doveva provare ovviamente il funzionamento di di tutta la l'armamentario per cui vabbè stiamo passando un po' di tempo insieme e lui a una certa ora andammo a dare più concreto finalmente si ritirò nella roulotte allora voi ci avete presente roulotte che ci hanno i piedini di con Lucchinelli Balde con tutta quella banda là aspettammo un quarto d'ora accademico che ovviamente si posizionasse dopo muovemmo i piedini e cominciamo a girare la la roulotte a muoverla con Filippo dentro che ovviamente ci mandava a quel paese e quello era era quello che non è la MotoGP oggi poi dicono che eh oggi è meno interessante ma pensate se oggi cioè se allora ci fossero stati i social e anche diciamo la libertà che oggi non avremmo fatto la vita che abbiamo fatto bella che poi abbiamo fatto noi però però pensate le cose che che non saremmo serviti a niente come non servono più i giornalisti oggi bravo che fanno quello che sto dicendo io non sono mai surclassati dalla comunicazione fatta dal pilota stesso ma me è la prima volta che andai per esempio con la Cagiva quando avevamo preso Mamola ti ricordi nell'ottantotto che andaste a Gugliani lascia perdere Gugliani te ne racconto un'altra eh prima del mondiale siamo andati a fare le prove a Philip Island era febbraio gennaio febbraio sai per prime prove erano importanti no anche belle da un punto di vista sia pratico che mediatico Stefano e io ero d'accordo sempre con l'agip che ci mandava la benzina che era arrivata regolarmente era in benzina speciali no certo momento portiamo giù credo tre o quattro moto e quattro cinque motori prima uscita spacchi il motore ma l'imbiella che cos'è secondo giro spacchi il motore terzo giro spacchi il motore cazzo c'erano rimasti due motori avete finito i motori se sai cos'era ma la benzina sbagliata ci hanno dovuto tornare indietro con la trasferta lì penso a te ma roba da amati le madonne che se ne catalagi in quel periodo non sapevano perché spaccavano se ne sono accorti alla fine dopo i cinque motori finito metti tutto dentro e torna indietro pensa che bella trasferta Stefano beh se vi andate a ammazzare la prima spizza è il primo impatto dei di mamola con la cagiva penso a te ecco io ho un'altra cosetta da da dirvi a proposito della cagiva ve la ricordate la tuta di mamola quando correva in cagiva claudio era praticamente rossa e metallizzato argento come suo cane doveva ricordare doveva ricordare un gladiatore no sulle spalle qua davanti c'aveva una cosa così solamente che mamola fu preso per il sedere da tutti i colleghi perché gli dissero che eh quella configurazione di tuta sembrava che avesse il via per che è il pannolino praticamente quando eh claudio eh praticamente contattò l'oson per farlo correre l'unico punto sempre l'oson l'unica cosa l'unica cosa che lui volle assolutamente ancora prima di parlare di di denaro era non correre con la tuta fatta fannolone hai capito fannolone sì è vero è vero era era veramente una cosa orribile 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 ti ricordi Stefano era talmente popolare che siamo andati in corteo io lui eh Vucanovic camminava poco perché era zopo ti ricordi e con dietro uno stuolo di 500 persone che lo seguivano mezza Goiaglia roba da mattina faceva delle cose era un eroe ma mola era faceva delle cose rendi che erano pazzesche del mio ricordi la mania quando faceva saltare in aria nei bidoni con i con i rischi riserve e i petardi ogni tanto sentivi partire un petardo ecco ma mola era veramente un monello cioè era completamente fuori dallo schermo ma mola aveva un pupazzo a forma di squalo si la prima qua se lo metteva su un uccello esattamente e girava nudo nel paddock e con lo squalo ma completamente nudo eh cioè col sedere di fuori oggi sarebbe multato ogni cinque minuti oggi se se Carmelo vedesse una cosa del genere gli prende un infarto ce lo giochiamo là capito non è dobbiamo dire che la Dorna ha fatto molto per la MotoGP eh per il mondiale direi di sì direi di sì assolutamente però poi sono passati di là hanno fatto troppo hanno fatto molto poi hanno fatto troppo eh Stefano perché noi abbiamo vissuto gli anni più belli è diverso capito eh Stefano c'è Adelio Faccioli che eh è meraviglioso cioè ricorda un ricordo quella il ricordo di Adelio è fantastico io non l'ho mai dimenticato quella cosa lì vediamo che Adelio Adelio Faccioli eh ha iniziato a correre nelle derivate di serie eh con una Ducati 750 SS andava fortissimo era uno a livello di 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 uncini insomma eh io indegnamente correvo nella sua categoria si fa per dire e poi è passato a correre nel mondiale sia con la Yamaha 350 sia con la Suzuki 500 grande amico di Lino Dainese ha poi lavorato con Lino ed era sponsorizzato da Lino e tuttora è un grande amico e adesso vive fuori dall'Italia è diventato un ciclista della Madonna eh ricorda il ricordo Stefano no beh io ero io ero veramente alle primissime armi cioè e credo fosse forse se non era l'81 era l'82 ma non lo so comunque ehm dico vorrei andare a vedere la gara in in Austria cioè c'eri anche tu tra l'altro c'eri tu che eri il capo ovviamente e mi mandasti a dormire in un albergo che io cioè io ero un povero disgraziato di quelli che vanno in giro con lo zaino questo mi mandi in un hotel dove c'era solo Agostini cioè era un hotel non solo della montagna il Kobenzio non era il Kobenzio magari il Kobenzio già è un 5 stelle lusso dovevano i presidenti della Repubblica quello era peggio ancora di più cioè io ho detto questi non mi prendo neanche vabbè comunque chiedo dico ah mi piacerebbe andare a Salisburgo il capo redattore di allora di Motosprint Alessio Boschi un idolo per me è uno che mi ha insegnato il mestiere mi dice guarda c'è uno che conosco si chiama Cantelli che lui va con sua figlia a Salisburgo se vuoi ti dà un passaggio prendo parte e dice mi fermo un attimo da un amico dobbiamo ricongiungerci con l'amico l'amico era Lino Dainese cioè io sono arrivato là e c'era Lino Adelio la moglie di Lino e da lì siamo partiti per andare a Salisburgo con una neve demenziale se te lo ricordi di Salisburgo si correva quando è inverno pieno proprio dei geni e arrivamo là mi ricordo che ho detto io ho fatto la credito come Motosprint c'era un gabiotto che era l'ufficio dove davano in pass era una casetta di legno di uno per uno e quello mi fa guarda io qui ho 25 fax con scritto questo è Motosprint questo perché la gente mandava un fax dicendo di essere giornalista di Motosprint e quindi quando è arrivato quello vero l'ha mandato a zappare la terra e gli hanno detto ragazzi in quel periodo era difficilissimo fare le interviste da loro io allora un anno io sto parlando ora quella al cross era 82 quando tu stai parlando 82 era al cross ancora con la con la Gilera no e sai che noi avevamo tanti soldi come Piaggio Gilera spingeva molto il cross no e avevamo Rinaldi e Madì quell'anno lì e siamo andati a correre in Finlandia a Cuopio mi ricordo era Cuopio ed era venuto il capo del Corriere della Sera invitato dalla Piaggia spese sue chiaramente no e quello che era prima di come si chiama di quello che hai detto prima non mi più il nome prima di Falletti che poi si era messo in guerra era uno famoso e e c'era da fare l'intervista e lui l'ha fatta poi bisognava mandarla e dovevi prenotare la telefonata per il giorno dopo alle 4 perché tu non potevi assolutamente telefonare dalla Finlandia all'Italia dovevi prenotarla pensa te ricordi qualcosa sai un anno nel 1981 con la Carogna di Scalera aveva litigato giustamente perché era impossibile non farlo con il governo in qualche modo con il governo ciecoslovacchio e allora gli hanno detto te Scalera non ti presentare lui ha detto son ben felice ho litigato con voi a posto per non tornare allora a me mi hanno detto anche se non c'è la 500 motosprint il Grand Prix di dice che Slovacchia lo deve seguire quindi abbiamo i poteri scelto uno per andare va tu allora il solito terremotato con lo zaino le prime armi che ha detto beh vado certo che vado prende un volo per Vienna una macchina a noleggio si presenta alla frontiera di Bratislava c'ero solo io della gran gente con dei mitra e io dei cani ed è arrivato là c'era brigaglia con un 238 e la moto dentro era sei ore che era lì che stava aveva smontato tutto il 238 la moto era fuori c'erano gli attresti seggiolini gli avevano fatto smontare prima signore a me per fortuna mi ha mandato via comunque quando sono arrivato la in questa terra fantastica dove c'era il circuito adesso al posto dei box c'è uno che vende i mattoni che lo guardi oggi vedi box vedi il padre che dice ma questa era veramente la preistoria delle moto da corsa e invece quelli andavano per queste stradine in mezzo ai boschi lì in mezzo ai prati a 2000 all'ora che te dici avevano un pelo sullo stomaco mostruoso di la comunicazione era devevi parlare con Praga e poi ti collegava con Bologna e te auguri gli stavi a raccontare però mi dicono perché ovviamente io mi informavo che comunque la sera invece il paddock era era molto vivace perché c'è riandato già prima cento volte comunque gli italiani li conoscevano tutti per nome diceva tu italiano e poi dicevano il nome di quelli che erano già passati di lì ho detto abbiamo una buona fama però Paolo è uno che non li dico mai con nessuno una volta ero a Laguna secca sarà stato l'ottanta 88 89 sai che c'erano ancora i tendoni fuori no non c'erano i box nei tendoni e ho visto volare delle sedie era fra scalera e cereghini si tiravano delle sedie non mi ricordo perché è vero è vero ma poi siamo diventati grandi amici ci siamo spiegati diciamo poi tutto sommato una super chat e dice di Marco Lozza ho fatto leggere a Rinaldi il tuo libro non era tanto con te lo sai sai perché non era tanto contento sai perché cagiva grande grande Claudio cosa hai fatto a Rinaldi cosa gli hai fatto il libro il tuo libro io ho parlato tanto della cagiva cosa c'è Rinaldi non mai parlato di Rinaldi hai parlato no no vabbè non capisco l'ho letto il libro ma non mi ricordo prima c'era una domanda che solo tu puoi rispondere perché la cagiva non aveva sponsor ma in realtà attenzione perché no 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 ferma allora la cagiva poteva avere tutti gli sponsor che volete io ho fatto un'operazione quando dove venne da me il direttore marketing della Philip Morris che poi divenne anche presidente non mi ricordo il nome che era le prime armi e mi disse voi siete l'unica azienda europea che fa cross Parigi Dakar e velocità noi come Philip Morris stiamo facendo un'operazione con la Chesterfield per quanto riguarda il motocross e la Parigi Dakar investiamo come minimo 15 miliardi ed era vero abbiamo individuato in voi l'azienda che fa sia motocross che Parigi Dakar e vincete per cui vi diamo questi soldi e sappiamo che fate anche la velocità e vi mettiamo anche la malboro minchia era un'operazione da 23 miliardi te lo giuro paolo vado da Claudio con la macchia davanti perché 20 30 miliardi 20 miliardi trovarli in quel modo poi contavi già la tua percentuale della madonna gli spiegai la faccenda lui mi disse va bene Carlo guarda che devi fare un telex che c'erano i telex in una settimana a questa persona passa una settimana 0 dico Claudio ma porca troia ma sono 25 miliardi sei fuori ci danno la malboro per la 500 la Chesterfield per i cross e Parigi Dakar lui a sera impegnato a parole con jean paul beneducci che era il capo dell'ital tabacchi di roma che gestiva la lucky strike a parole se era già messo d'accordo per farsi dare 3 miliardi all'anno per tre anni mentre io sono di parola anche se non ho contratto e io telefonai a questo direttore marketing che era diventato poi presidente e gli dissi no lui mi disse ma come no e gli dissi no ma detto di no pensa rinunciata quella roba e la 500 non la potevi toccare doveva correre rossa senza sponsor o con uno sponsor del petrolio tipo agib che aveva questa era la cagiva per un anno però corse con bastos te lo ricordo no prima non era la cagiva era un team privato era no 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 tant'è vero che quella volta che ti posso raccontare un anedito ti posso raccontare un anedito era l'87 e lui scrisse bastos e noi non potevamo fare niente con i tabacchi perché avevamo già lucky strike che stavamo trattando e quello stronzo di battaglia in senso buono ha scritto discovery basti bastos aveva fatto un dvd con della musica hai capito dicendo che era una cosa di musica hai capito che bagascio all'epoca all'epoca eh di questi scamotaggi ce n'erano tantissimi cosa che stefan non sapeva questa qua stefan non sa niente allora carlo qua ti marco lozza di la storia del doping e carlo per la storia del doping si riferisce non so che cosa quale e ce n'ho avute tante storie di dopo infortunatamente non con me non per tutto e tu cioè sei tempo non ero io erano piloti ragazzi erano piloti di poi ci sono poi ci sono ovviamente le le invenzioni no eh eh per esempio stefano cuccolini parla di un casco da moto per poter fumare le sigarette anche andando in moto allora i piloti all'epoca fumavano eh fumavano tanto eh uscirono delle fotografie di bari sci che aveva un buco nel la mentoniera che in realtà era stato fatto per farci passare eh quando si correva in Venezuela che faceva un caldo dalla madonna l'acqua il tubicino per per bere poi col fatto che che bari ma anche Marco Lucchinelli fumavano come come turchi erano nate varie di queste leggende quel che è certo è che sulla linea di partenza l'ultima cosa che facevano era fumare una sigaretta e la prima cosa che faceva Stefani la bella Stefani quando arrivavano al parco chiuso era arrivare con una sigaretta accesa se la levava dalla bocca la dava a bari che gli toglieva il filtro perché fumava le le galoise ma gli strappava il filtro e questa era la prima cosa che facevano sul podio sia Marco che bari dai che era uno spettacolo fumare sul podio dai io bellissimo era dai specialmente quando la libertà quando si tirava giù la tuta rimanevano in canottiera era un messaggio politico lì correct ma tutto sommato rispetto al beverone ragazzi dai sì ma al beverone praticamente il declino del moto mondiale è iniziato quando i piloti hanno smesso di fumare dice ah a proposito passiamo a tizie proprio mi è venuto in mente in questo in questo momento perché sui social Alex Rins ci ha fatto sapere che da poco tempo è diventato vegano prenderò per il culo quando lo vedo lo prenderò per il culo vi devo dire che che anche Freddy Spencer è diventato vegano da molti anni a me risulta anche ediloso no ediloso no gli piace ma la bistecca è diloso ma va a mangiare al crino però eh questo fatto eh che eh ormai si sappia si si sappia tutto no c'è un pilota diventa vegano che per me può voglio dire riduce alla fiorentina va benissimo adesso affari tuoi e ce lo faccia sapere eh quando prima le informazioni che ci arrivavano erano di due tipi o squisitamente tecniche o perché era apparsa qualche fanciulla nuova nel paddo che volevano sapere chi era invece adesso si si parla di 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 tante altre cose interessanti no quindi è un passo in avanti nella serie chi se ne frega direi che il passaggio all'essere diventato vegano direi che ci sta sulle chi si sta tutto ma chi se ne frega che facciano un bello sviluppo della moto su di loro no su market se no te ne accorgi che mondiale che fanno tu ogni tanto vieni a qualche gara raramente eh io eh purtroppo no te ne fai perché te hai dell'occhio ti hai indovinato tutti i piloti bisogna dirlo carletto c'è qualche difetto ma ha anche un sacco di pregi cioè i piloti che si sono appoggiati a carletto hanno fatto tutti carriere cioè quasi va a provare che noi eh no ma anche anche paolo ogni tanto me ne dava qualcuno ma li scartavo perugini cioè quelli che scartava i te li prendeva lui è certo però vedi però perugini invece eh era un manico ma lo sapevo che andava a finire di dire ecco sì era un manico io ho salto la palla lui si è andato dentro subito e ti credo perché perché eravamo nel 96 ale cominciò a dare i pezzi speciali a Valentino che poi dopo gli vince il mondiale ma era una bella sega quell'anno anche lui pezzi solo che era ricco se ne batteva i coglioni a vent'anni veniva con la ferrari a Mugello è un grande però è un grandissimo ci voleva più fame più fame bravo stefano questo è vero questo è vero e poi stefano era uno che non si incazzava mai e cantava Stefano Perugini no Stefano io Stefano due suo padre no perché una volta che li abbiamo fatto fare dei pezzi a Mugello che è caduta si ruppe ricevete una telefonata cinque minuti dal suo padre bastardo lo volevate uccidere ma che cazzo stai ricordati tanto chiudo la parentesi eh ma eh i papà i papà i papà sono sempre stati un problema per non è vero no non è vero è vero loris capirosa aveva un papà che c'ha perché ne abbassano in un altro che uguale anche ne abbassano in papà è tranquillo però ci sono dei papati tranquillo anche pietro anche pietro biaggi era una persona simpatica carletto dici qualcosa di annone dai che tu lo sai ma ci sentiamo vuole tornare vuole tornare ma quando scade la politica degli annoni no no fino al 24 non può tornare 24 può tornare scade a fine 2023 e quindi lui vuol tornare che sia Superbike MotoGP da vedere però lui vuol tornare si sta allenando gira eh vuole ha quella voglia di tornare ora sempre nel tuo portafoglio beh diciamo per adesso è mini portafoglio perché non occorre però fa parte della tua scuderia allora potrebbe rifare parte della mia scuderia ma secondo te secondo te il buon Iannone ha ancora delle chance sì perché il talento se ce l'hai non è che lo perdi non è che lo compri ne lo vendi se si allena fisicamente la testa è a posto può far dei buoni risultati diceva se stai fuori un anno non rientri più ma non è vero per citare uno che non conosciamo cioè che Paolo non sa neanche chi sia non sono mica d'accordo le moto sono cambiate prima le guidavi te ora lei ti guida la moto più che altro è più facile adesso prima no se mai avessi detto che era ancora alle 500 ti dico non lo so questa moto qua se hai talento e tutto quanto ti guida lei è comunque vedo che il superbike c'è chi prende c'è chi prende a parità di moto si prende un secondo al giro se non di più quindi qualcosa fa anche il pilota dai po diversa secondo me lui può tornare se si allena bene si sta allenando qualcosa può fare io gli suggerirei la superbike però poi dopo la mia allora tadness 80 da youtube ci fa una domanda i piloti del passato bevano anche nel dopogara intendo beh certo durante la gara non è che sparavano delle birre la sera ti ricordi a suzuka nel baretto stefano una sera delle cartelle anche una sera suzuka tipo no non era una sera era per me era mattina perché da suzuka la lunedì mattina alle quattro e mezza cinque si andava a prendere il pulmono per andare in aereoporto allora una mi fa hey sorry sorry can you help me c'era un pilota della cinquecento steso per terra da portare a letto che non partiva la mattina partiva più avanti e allora l'ho preso io per i piedi lui per le braccia lo mettendo nel letto e poi il marito era favoloso stefano qualcuno beveva sì qualcuno porca droia e mi ricordo una volta che john kocinski di cui mi pregio di essere stato amico anche se era sicuramente un pazzo e mi disse dico beh non sei rimasto alla festa per il titolo perché aveva vinto anche lui il titolo e mi bussa alla porta e mi dice io gli voglio troppo bene ce li hai dieci dollari che vado a mangiare un hamburger e voglio bene cioè io ce li ho dieci dollari vado a mangiare un hamburger e gli faccio ma non dovevi essere alla festa del mondiale a me non piacciono quelle feste di si ubriacano e basta quindi si bevano la mano si puliva la mano allora quando quando john io mi ricordo una volta a spa franco sciamba lui era un fissato della pulizia non so se ve lo ricordate con il compressore dopo ogni prova puliva tutto eccetera e c'è una meravigliosa moglie senza denti che era brutta comunque lui era era un fanatico della sicurezza allora della sicurezza della della pulizia aveva teneva la tutta fuori del motorhome la puliva tutta eccetera eccetera poi magari si spostava un attimo e quel figlio del celeste impero di di renei assieme agli altri americani giovanni gli la sporcavano gli buttavano della terra sopra lui arrivava la ritrovava di non sporca ricordi che ondevano sempre i panni fuori le mutande tutte con le mollette ve li morse a puntata lui era veramente un anomalo era un americano non era della della cioè come tutti gli americani che non erano della california era abbastanza osteggiato dai californiani infatti sono loso scusate ho nominato il nome di spencer schwanz e kosinski erano i tre figli di nessuno in quei tempi ma ve lo ricordate quando kosinski è venuto a bologna per una delle feste dei caschi d'oro ed era ovviamente c'era la neve a bologna e lui è arrivato in maglietta con le maniche corte e pantaloncini corti sempre mi ricordo che reni lo arrivò cioè lui scese la scala dell'hotel aveva lo smoking e il papillon arancione john e reni gli fa e orange man ti vedo bene vabbè ragazzi non allora ridendo e scherzando abbiamo fatto un'oretta di però io sono veramente contento perché oltre a oltre a carlo c'è stefano che è un grande amico ed è stato anche un grandissimo compagno di lavoro e giornalista è difficile avere degli amici lavorando assieme beh sono arrivati con la rivalità con la rivalità che c'è sempre ma con con stefano veramente ci siamo ci siamo divertiti abbiamo lavorato abbiamo lavorato bene ci siamo fatti degli amici anche dei nemici stefano no perché ha un buon carattere e quindi ragazzi non so se questa puntata un po strana del bar sport vi è piaciuta ma ci siamo sentiti per caso con stefano l'altro giorno è nato dal nulla questa serata è nato dal nulla anche perché è piaciuta se vogliamo fare delle serate voi ditecelo nei commenti se ne volete altre magari con degli argomenti avete sentito tossire un sacco di volte carletto ma lui è perché marcio normalmente invece io sono ancora a casa riduce della secondo covid per cui sono un po' bongato sembra che stia benone scaleri in realtà è il più malato di tutti carletto ha sempre tossito sono trent'anni che tossisce esatto non ha più estate e inverno ecco allora ragazzi ricordatevi come al solito di una barzellettina ci può anche stare ci vuoi fare la barzelletta anche questa ecco tu esci dal quadro la racconta stefano no 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 per carità vai 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 con la barzelletta carletto siamo in un circo famoso dove sempre pieno di gente a un certo momento l'imbonitore del circo dice adesso metto in palio 500 euro a chi fa sedere l'elefante arriva si alza uno faccio io silenzio arriva prende due mattoni che li da sui coglioni è l'elefante si sente porca troia vabbè ripassa un mese stesso spettacolo nella città sempre pieno perché era un circo favoloso ma qua dice adesso l'imbonitore dice ora offrirò duemila euro a chi fa sedere l'elefante e ben riesce sempre il solito io camminava la prende due mattoni tra sui coglioni è l'elefante si siede e porco di quel demonio passa un altro mese rifà lo spettacolo sempre pieno per i miei stavolta dice ora metterò 5 mila euro di premio però deve fare dire prima sia l'elefante poi no all'elefante e poi farlo sedere e si alza sempre sto qua io parte questo si mette davanti all'elefante gli dice mi conosci l'elefante vuoi che ti dia una mattonata sui coglioni e allora siediti grande carletto sulla barzaretta sei avanti anni luna e allora siediti va bene ragazzi sulla campanellina iscrivetevi al canale ferma quella della prostituta che vada al ginecologo hai bravo ti è la per la prossima che vada al ginecologo e gli dice dottore guardi io ho dei problemi quando le mostrare quando le mestruazioni il medico gli fama a tante perdite e due o tre mila euro ragazzi possiamo andare con questo abbiamo chiuso allora saluti a tutti ci vediamo ciao ragazzi buona serata ciao vado a parlare del mio genuo adesso